E' questo posto, ragazzi. Guarda. Bello. Entri, Lucio. Questo è qua, voi. Ok. Io, Rosalia, via di Finipal, signore della Quirquina e del Monte delle Rose, ho deciso di abitare in questa grotta per la gloria del mio Signore Gesù Cristo. Ah, ma io ci sono qua. Entriamo. 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 Ho l'occhio e l'esercito. Sì, è strettissimo. Vai. È strettissimo, la buona. Ah. È strettissimo. Salve. Buongiorno. Salve. Salve. Oh, ciao. Oh, ragazzi, è uscito un attimo. C'è una per strada. C'è una per strada. Oh, no, 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 no. Sì, no, no, no. Ora, che stessiamo. Il-F-H-R-E-D-A-R-E-D-A-R-E-D-A-R-E-D-A-R-E-D-A-R-E-D-A-R-E-D-A. Sì. Grazie usciamo, non c'è più, usciamo di costa.